E il teamcom, ce la stiamo perdendo? Oggi capiamo perché forse potrebbe essere parecchio in difficoltà, però dopo la sigla. Bentornati, oggi voglio portare a vostra attenzione un articolo pubblicato su Seeking Alpha in cui si paventa il fatto che l'elezione di Donald Trump potrebbe essere una vera badilata in mezzo alle ginocchia per quanto riguarda Seeking Alpha. Scusate questi miei particolari esempi, non sono molto belli. Comunque andiamo a schermo e ve leggiamo questo articolo e vediamo poi di commentare per capire se effettivamente tutte queste valutazioni possono essere sensate oppure no. Cattive notizie per Realty Income, che qui ho tradotto per voi in reddito immobiliare, di Yusik Ascola, CFA. I tassi proposti da Donald Trump potrebbero avere un impatto significativo su Realty Income Corporation. Questo danneggerebbe sui tre principali inquilini e potrebbe portare a un aumento dell'inflazione e ai tassi di interesse. Condividiamo le nostre ultime riflessioni sull'azienda e alcuni dei suoi più colleghi stretti. Colleghi in questo caso sarebbe Peers, per cui si va a parlare dei competitors nello stesso ambiente, per cui Reeds. Qui è Yusik Ascola, presidente di Long Bear Capital, una società di investimento specializzata in investimenti Reeds. Andiamo a leggere. Donald Trump ha appena vinto le elezioni e Realty Income è immediatamente scesa del 4% in conseguenza a questo. Inoltre era già scesa dell'8% nelle settimane precedenti alle elezioni, mentre il mercato diventava sempre più fiducioso nella vittoria di Trump. E vediamo appunto qui questo grafico. E' chiara una ragione in cui tutto questo ha senso. Trump ha in programma di introdurre tariffe significative che molto probabilmente danneggeranno alcuni locatari di Realty Income. Ora, prima di spiegare perché, voglio chiarire in concetto, vabbè, qui è un chiarimento per gli americani, perché sapete che sono molto divisi, non sono politico, non sono quello, non sono quell'altro. Non ci interessa. La proposta di Trump include tariffe del 10-20% su tutte le importazioni indipendentemente dal paese di origine, tariffe del 60% su tutte le importazioni della Cina, tariffe a hoc applicate a qualsiasi azienda statunitense che tenda o tenti di esternalizzare la produzione in un paese straniero. Quindi o si sta in America o si paga di più. Tutte queste proposte fanno sembrare relativamente minore al confronto i dazi del 2018-2019 applicati alla Cina, nonché all'acciaio, all'alluminio canadesi ed europei. Vi ricordate, quando ci fu Trump, perché questo CFA pensa a questa, diciamo, questa problematica per Realty Income? Uno dei settori dell'economia statunitense maggiormente minacciato da questo regime tariffario sarà quello dei dettaglianti importatori di beni e più specificamente crediamo che i negozi a un dollaro, i cosiddetti dollar tree o dollar shop, e le farmacie saranno particolarmente colpite negativamente. Sfortunatamente per Realty Income i suoi tre maggiori inquilini rappresentano circa il 10% del suo reddito da allocazione, che insomma non è poco, sono Dollar General, Walgreens Boots Alliance e Dollar Tree, come possiamo vedere da questa schermata. Questi qua occupano praticamente il 10%. Il mercato sa che le tariffe sono un problema per alcuni dei principali inquilini di Realty Income e questo è probabilmente il motivo per cui ora sta vendendo più altri REIT, WNQ e l'ETF sui REIT americano. Come abbiamo spiegato in un recente aggiornamento di mercato su iYield Landlord, che sarà qualche loro pubblicazione, servono molti consumatori a basso reddito, importano molti prodotti stranieri soprattutto dalla Cina, probabilmente non saranno in grado di reperire in tempo scorte a basso costo da fornitori non cinesi e quindi devono anche affrontare una concorrenza sempre più forte da parte di concorrenti più grandi, fra cui Walmart e Amazon, ovviamente che sono nel mercato del retail. Le farmacie e i negozi a un dollaro stanno già chiudendo battenti da qualche anno, lo possiamo vedere anche con Walgreens Boots Alliance che sta chiudendo negozi un po' in giro, però secondo me lì è un problema più di gestione interna dell'azienda che non di mercato. Walgreens infatti ha annunciato che avrebbe chiuso fino al 25% dei suoi negozi, facendo scendere il prezzo delle azioni a un minimo degli ultimi 10 anni. Anzi alcuni investitori temono che potrebbe affrontare il Chapter E-Learn, che è quella diatriba, quella procedura che si va a affrontare nel caso in cui ci sia il fallimento lì in azienda. E qui possiamo vedere anche le azioni di Walgreens come sono andate in basso. Prima di continuare vi ricordo che la maggior parte delle schermate che vedete sullo schermo con i dati finanziari sono presi da Seeking Alpha che purtroppo non sponsorizza questo video, magari potesse avere qualche miliardo di euro da parte di Seeking Alpha, da parte loro, ma dalla quale sono riuscito a ottenere dei link affiliati con degli sconti che arrivano fino al 20%, sia per la sottoscrizione appunto a Seeking Alpha e i suoi servizi, ma anche alle loro Alphapix, quelle dove vengono selezionate le aziende che secondo i selezionatori di Seeking Alpha hanno una maggiore probabilità di fare degli enormi capital gain. Link in descrizione, ma continuiamo. Allo stesso modo Dollar Tree, che sarebbe negozi tutta un euro, ha in programma di chiudere mille negozi nel brevi termine, molti dei quali faranno parte della catena Family Dollar. Il suo CEO ha annunciato che si sarebbe dimesso per motivi di salute appena un giorno prima delle elezioni. Anche questo potrebbe fare un po' puzzare tutto quanto. Nell'ultima conference call il CEO di Dollar Tree, di Dollar General, ha dichiarato nel suo comunicato di apertura che i consumatori sono in difficoltà e per citare lui stesso le sue parole non siamo soddisfatti dei nostri risultati finanziari complessivi. A mio parere, comunque, vabbè, lo parleremo alla fine. Anche qui vediamo come Dollar General abbia avuto un calo dal 2022. Pertanto temo che Realty Income dovrà affrontare crescenti difficoltà con gli inquilini nei prossimi anni se verranno applicate le tariffe proposte da Donald Trump. È fortemente esposta da alcuni dei segmenti più sensibili del mercato, delle tariffe del mercato a dettaglio, il che espone al rischio anche di dover affrontare crescenti posti vacanti in futuro. Per cui, tutte quelle dinamiche di avere degli immobili vuoti in cui nessuno li vada a affittare. Per fare un esempio, cita l'autore, ci sono altri esempi simili come NNN, che ha recentemente annunciato che probabilmente affronterà alcuni problemi con gli inquilini nel breve termine e, come possiamo vedere, anche NNN sta andando a calare. Ma le cattive notizie non finiscono qui. Le tariffe proposte potrebbero anche aumentare l'inflazione e, di conseguenza, aumentare i tassi di interesse a lungo termine e ridurre i futuri tagli dei tassi. Secondo l'autore, stiamo già assistendo a questo fenomeno, i tassi a lungo termine sono aumentati in vista delle elezioni perché i mercati delle scommesse erano sempre più fiduciosi della vittoria di Trump e i tassi sono aumentati ulteriormente in seguito ai risultati delle elezioni. Ed eccoli qui. Questa è una pessima notizia per Realty Income perché è uno dei REIT più sensibili ai tassi di interesse, ovviamente. I net lease sono la cosa più vicina alle obbligazioni nei mercati azionari, quindi il livello dei tassi ha un impatto diretto significativo sui REIT. Tassi più alti, prezzo delle azioni più basso. Tassi più bassi, prezzo delle azioni più alto. E qui fa vedere anche una certa correlazione fra i 10 years treasury rate e Realty Income Corp. Questo significa che dovremmo vendere le azioni di Realty Income? Ovviamente non necessariamente. Sono cattive notizie, secondo l'autore. Questo abbassa le stime del fair value delle aziende e del potenziale di rialzo futuro. Pertanto, se ci si aspettava un rialzo, ora è diventato meno attraente e ci sono, secondo l'autore, aziende come WP Carry che potrebbero dare dei risultati più interessanti, migliori. E qui fa vedere anche il rendimento del Funds from Operation e il rendimento da dividendo, sia di WP Carry che di Realty Income. Adesso vorrevo darvi alcune mie considerazioni. Realty Income sono parecchi anni che non va tanto bene, proprio perché è impattata dai tassi di interesse, è impattata dai propri inquilini, è impattata un po' da tante situazioni. Viene sempre venduta come The Dividend Company, io è un'azienda che seguo da parecchio, però di risultati appunto in questi ultimi dieci anni non ne ha dati molti. anzi, ha avuto più risultati relativi solo al puro e mero dividendo che non a quello che è il capital gain. E come sapete io preferisco un dividend growth, ma anche un capital gain delle azioni. Cioè il dividendo è la parte importante, ma non è l'unica parte di un'azienda. Quando si va a fare stock picking deve essere un po' tutte e due le cose. In questo caso la mia impressione è che l'azienda si trova effettivamente in difficoltà da parecchio tempo, forse è diventata troppo grande da gestire, troppo complessa da gestire, o comunque si trova in un contesto in cui non riesce più a crescere, perché è talmente generalizzata, è talmente orientata a una certa tipologia di inquilino che non riesce più a crescere. Quindi ci vuole un passo secondo me da parte della dirigenza, da parte del CEO, da tutto quello che è la gestione finanziaria e operativa dell'azienda, anche nella gestione degli immobili, e potrebbe ritornare a essere la famosissima dividend company, così come si è definita col marchio registrato. Ovviamente anche il mio pensiero è che non bisogna mollarla, però è un mio pensiero personale, per cui mi farebbe piacere sapere le vostre intenzioni qui sotto riguardo al realty income e comunque sostenetemi in tutti i modi, metodi possibili che potete trovare, li trovate qui di lato, potete anche iscrivervi con link infiliati, sostenermi con donazioni, fate quello che volete. L'importante è che mi vogliete bene come io voglio bene a voi e noi ci vediamo in un prossimo video. A presto!